Sono particolarmente felice oggi di essere qui, ringrazio l'amministrazione comunale, il sindaco, il direttore artistico di questo bellissimo festival di Invasioni e vi dicevo sono particolarmente contenta perché rivedo i miei cari colleghi della città dei ragazzi e perché questa orchestra non è qui stasera solo perché è un gruppo adesso tra gruppi emergenti calabresi come orchestri giovanili ma è anche un'orchestra che è nata in seno alla città dei ragazzi, è uno dei progetti che ha preso vita nel 2008 che ha preso spunto da altri progetti musicali che erano nati già nel 2004 e poi ha preso durante questa pausa un po' triste della chiusura della struttura l'orchestra ha continuato a vivere sotto legge del centro Rodari per la musica di Cosenza quello che state per ascoltare è che si chiama Pallavio, il nome è tutto un programma, l'autore inglese Jenkins si rifà proprio agli stilemi classici della musica italiana antica e dedica proprio alla musica italiana antica che è quella che tra l'altro ha ispirato molti compositori anche per il cinema con questo brano, noi vi facciamo ascoltare solo il primo movimento di questa suite che in realtà è un concerto grosso solo il primo movimento Pallavio di Carl Jenkins applauso 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 Grazie a tutti. 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 a tutti.